4 novembre 1921. 4 novembre 2021. Cento anni dividono queste due date. La prima in cui, attraverso una madre, si è voluto abbracciare tutti i figli d'Italia dispersi sui campi di battaglia. La seconda che porta con sé la memoria. La memoria di piccole storie di donne protagoniste di un sentimento che si chiama amore. Dietro ad ogni figlio disperso sui campi di battaglia ci sono realtà diverse, ma tutte esempi di quell'amore di cui si parla troppo poco, perché l'amore di madre spesso appare cosa così dovuta e scontata da non essere degna di scrittura. Da Maria Bergamas alle donne sconosciute dei piccoli paesi che videro partire i loro figli, alle donne che lasciarono il loro mondo per dedicare la propria giovane vita a coloro che soffrivano e che tornavano diraniati dalle granate. L'amore di una donna, alla fine, è sempre l'amore di una madre. Mi piace pensare che tutte queste storie rimangano vive nel tempo e vengano insegnate anche alle nostre generazioni. E proprio per questo voglio ricordare solo una frase, una frase di un grande scrittore britannico che è Lewis Carroll, che scrive che è ben povera memoria quella che funziona solo all'indietro. Probabilmente intendeva dire che la conoscenza del passato non è fine a se stessa, ma sta nella sua capacità di proiettarsi nel futuro e di rappresentare un punto di riferimento. Chi muore sul campo di battaglia invoca sempre la mamma e il nostro Adriano Lobetti Bodoni, in cui l'anno prossimo si celebrerà anche la costruzione del centesimo anniversario della costruzione del campo dell'onore a Santo Stefano di Cadore, muore invocando la mamma, dopo che lui stesso qualche giorno prima in una lettera scriveva, sai mamma, tutti coloro che muoiono sul campo di battaglia muoiono invocando la mamma.